Ciao a tutti, quante volte in questi mesi difficili, fatti di tante regole nuove, prescrizioni e restrizioni, la comunicazione delle pubbliche amministrazioni, soprattutto quella social, è stata decisiva e ci ha dato una mano. Spesso attraverso il nostro cellulare siamo riusciti a sapere quando riapriva la scuola di nostro figlio, quando si sarebbe potuto frequentare un determinato ufficio pubblico, anche banalmente quando sarebbe stato possibile uscire. Bene, per questi motivi è importante seguire oggi la diretta, l'APA a portata di smartphone, la comunicazione social e Ristoral Italia, perché ci saranno i racconti di tante pubbliche amministrazioni che ci diranno come hanno aiutato attraverso la comunicazione social, hanno assistito e sono state vicine ai cittadini. Seguitela, grazie, ciao. Il digitale non è un metodo come un altro, il digitale è un cambio di mentalità, è il veicolo di trasparenza, di velocità, di interazione con il cittadino e di rispetto delle sue esigenze. Ne parleremo oggi pomeriggio nell'evento l'APA a portata di smartphone, la comunicazione social Ristoral Italia, dalle 14.30, dando voce a degli esperti e alle pubbliche amministrazioni che sono state e sono in prima linea, perché il digitale è stato in questi mesi un appiglio per il nostro Paese, ma può e deve diventare la spina dorsale della ripresa. A concludere ci sarà la Ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone. Si tratta di un evento che si inserisce nell'attività del gruppo di lavoro per la riforma della comunicazione pubblica e la social media policy di indirizzo nazionale. Vi aspettiamo online. Grazie.